Ah, proprio come mi piace. Sapete, un giorno nel futuro il sole potrebbe soddisfare tutti i nostri bisogni di energia. Ma per il momento ci dà somma sicurezza sapere che la nostra casa è rifornita di energia nucleare. Oh, non so a cosa state pensando, ma non ci preoccupiamo, perché sappiamo che l'energia nucleare è sicura. In effetti la consideriamo come il nostro vicino amico. Ma ricordate, il nostro amico non può esistere senza degli ingenti sussidi governativi. Perciò scrivete al vostro parlamentare di fiducia e chiedetegli di continuare a destinare stessi punti al governo per il nucleare.